Castrignano dei Greci, scritto anche Castrignano dei Greci, Castrignana o Cascignana in grico, Cascignanu o Castrignanu in dialetto salentino, è un comune pugliese della provincia di Lecce, i cui abitanti sono detti Castrignanesi o Castrignani in grico. Situato nel Salento, appartiene alla storica regione della Grecia salentina, un'isola linguistica di nove comuni in cui si parla il grico, un antico idioma di origine greca. Il territorio del comune di Castrignano dei Greci, che si estende nella parte centrale della provincia di Lecce, è totalmente pianeggiante. A Castrignano dei Greci, oltre al dialetto salentino, come ho detto, si parla il grico. Il grecanico o grico è un dialetto di tipo neogreco, residuato probabilmente di una più ampia e continua area linguistica ellenofona, esistita anticamente nella parte costiera della Magna Grecia. I greci odierni chiamano la lingua katoitaliotica italiano-meridionale in greco. La lingua, scritta in caratteri latini, presenta punti in comune con il neogreco e nel frattempo vocaboli che sono frutto di evidenti influenze leccesi o comunque neolatine. L'agricoltura è alla base dell'economia del paese, uliveti e vigneti sono le culture principali. Per buona parte del Novecento rappresentò l'unica fonte di sostentamento per gli abitanti del luogo. Attualmente l'economia poggia anche sul commercio ambulante di tessuti e abbigliamento, oltre che naturalmente sul settore turistico. Il toponimo potrebbe derivare dalla parola latina castrum. Infatti, con la conquista romana della penisola salentina, conclusa sintorno al 260 a.C., i romani insediarono un accampamento militare chiamato Presidium Castrinianum. Un'altra ipotesi farebbe invece derivare il nome da Castrinius, il centurione romano al quale fu affidato il territorio. L'etimologia potrebbe anche ricondurre al vocabolo greco kastron, che significa castello. Le origini di Castrignano dei Greci sono molto discusse e legate anche a leggende popolari. Secondo la tradizione, la fondazione del paese è attribuita ai posteri dei Candioti di Minosse o dagli Atenesi e Cretesi seguaci di Giapige. Quindi la fondazione avvenne con la colonizzazione greca del Salento, durante il periodo della Magna Grecia. L'ipotesi più avvalorata è quella che i romani, conquistati dalla penisola salentina nel 300 a.C., favoriti dalla presenza di acque, vi abbiano istituito un loro presidio militare, come ho già detto. Tra l'800 e il 900, sotto il dominio dei bizantini, che diffusero le loro leggi, le loro usanze e la loro lingua, Castrignano divenne un casale fortificato e fu costruito un castello. La lunga permanenza bizantina è ancora visibile in alcune usanze e soprattutto nella lingua locale, il grico appunto, e Castrignano conservò anche il rito religioso greco fino al 1614. Con i normanni il casale, divenuto parte della contea di Soleto, venne donato da Tancredi d'Altavilla a Pietro Indrimi nel 1190. Nel corso dei secoli il feudo passò sotto il controllo di varie famiglie feudatarie, come i Depersona, i Prato, gli Acaia, i Braida, i Guarini, i Marescallo e infine fu di proprietà dei baroni gualtieri che ne mantennero il possesso fino all'eversione della feudalità nel 1806. Tra le altre evidenze architettoniche interessanti sono le pozzelle, in grico ta freata, un raggruppamento di piccoli serbatoi per la raccolta dell'acqua. Le pozzelle sono scavate nella roccia friabile in una naturale depressione del terreno e venivano rivestite con pietre di calcare permeabile in modo tale da permettere alle acque piovane di filtrare. Hanno una profondità variabile dai 4 ai 6 metri e una forma ad imbuto capovolto. Alla sommità presentano un grosso blocco lapideo forato, al centro, da cui si prelevava l'acqua. La dolina, ospitante circa un centinaio di piccoli pozzi, è oggi un parco attrezzato posto nelle immediate vicinanze del centro storico. Le pozzelle esistenti permettono di scorgere i solchi lasciati dalle catene e dalle funi che per secoli hanno sollevato i secchi per l'acqua o gli incavi circolari per poggiarvi le brocche. Accanto ai pozzi si trovano inoltre alcune pile in pietra utilizzate un tempo per abbeverare i cavalli o il gregge. C'è poi il castello, di origine medievale, che fu riedificato nel 1500 per volere della famiglia Qualtieri, come ricorda l'epigrafe sopra il portale. A pianta rettangolare con base scarpata si articola su due livelli divisi esternamente da un toro marcapiano. Nel 1700 è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti volti a ingentirne il prospetto e il cortile interno. Nelle fonti viene ricordato come eccellente strumento di difesa, con un fossato ancora visibile nell'Ottocento e le cannoniere strombate disposte al piano terra per spazzare il lato a ovest e a sud. Verso est un epigrafe fu fatta apporre dal feudatario Giovanni Donato Prato per ammonire i nemici provenienti dal mare, che così cita. 1618, fortis indomitus. Sulla facciata sono leggibili tre frasi propiziatorie. Procul taumantia proles, lontana da noi la prole di taumante, le arpie, figlie di taumante, portatrici di disgrazie. Poi c'è scritto dulcior cum pulvere palma, ossia la vittoria più dolce se ottenuta con la polvere, col sudore e la fatica. E infine Nequid invita Minerva. Nulla si è fatto contro il parere di Minerva, in quanto Minerva era la dea della saggezza. Interessanti sono i doccioni zoomorfi e quello bicefalo rivolto verso sud. All'interno si distingue il portale adorno di motivi floreali, angeli e mascheroni che dal piano terra dove trovavano posto le scuderie, il forno e i magazzini, conduce al piano nobile. Il castello venne acquistato all'inizio del 1900 dalla famiglia Mangia, che ne ingrandì il piano nobile edificando l'ala orientale superiore del palazzo, precedentemente adoperata da quartieri come terrazza, e ingrandendo e porticando in pietra reccese la signorile scalinata che funge ancora oggi da ingresso principale al primo piano, attualmente adibito uffici pubblici.